A mio parere negli ultimi 70 anni possono essere divisi in quattro tappe, abbiamo il dopoguerra con la grande ipotesi di uno sviluppo economico indefinito, un benessere in grado di risolvere i problemi del mondo, questa ipotesi va in crisi, va in crisi negli anni 60 e abbiamo uno studio proprio in quegli anni che si intitola I limiti dello sviluppo che farà storia, tradotto in tantissime lingue. Il sviluppo sostenibile parte dall'ipotesi che sia possibile per la prima volta fare una modellazione di tutto lo sviluppo del mondo grazie alle tecnologie informatiche disponibili e alle modellistiche che cominciavano a essere diffuse all'epoca e prevedere l'evoluzione. La previsione è una previsione catastrofica, l'idea dello sviluppo esponenziale che non potendo andare avanti all'infinito esponenziale a un certo punto collasse. Ci vogliono 20 anni per correggere questa impostazione, per arrivare al ministro norvegese Bruntr, che per conto dell'ONU sviluppa, nell'87 e poi nel 92 viene fatto suo dal convegno di Rio, sviluppa il concetto di sviluppo sostenibile, quello sviluppo che permette il soddisfacimento delle esigenze dell'oggi senza compromettere quello per le generazioni future. Apre la strada ad un ripensamento più completo, più di sistemi in realtà rispetto al precedente limite dello sviluppo. Arriviamo poi così al 2015 a grandi passi con la Laudato Si che fa un passo ulteriore con l'idea di ecologia integrale, vorremmo dire di sviluppo sostenibile integrale, con forza descrive e propone un'interconnessione tra tutte le cose che rende solidali e collegate tra loro tutti gli aspetti della realtà, con un'idea centrale di un uomo, di un essere umano che è responsabile di quello che gli è donato. La pandemia stranamente ha rilanciato la sostenibilità, la pandemia ha messo in rilievo un elemento già presente nella Laudato Si, ma non nello sviluppo sostenibile della Brunta, un elemento che è quello della fragilità umana, cioè che non abbiamo sotto controllo la realtà in tutti i suoi elementi e che siamo vulnerabili. L'uomo non è padrone della natura, non è padrone del suo destino, non è padrone della vita, è un essere vulnerabile che si trova in un sistema molto complesso, un sistema così interconnesso che è una cosa che nasce in Cina, in poche ore può arrivare in Europa, qualche cosa che pensavamo relegato in altri tempi, torno attuale e così via. Ci ha messo in una posizione che è quella sottesa dalla sostenibilità. Un aspetto importante di questo è la responsabilità. Chi nella pandemia è risultato un esempio, un punto di riferimento? Quelli che si sono assunti delle responsabilità, i medici, gli infermieri, gli addetti alle pulizie degli ospedali, chi ha continuato ad esercire i supermercati per gli alimentari e così via. Queste persone qui sono risultate evidenti a tutti noi e deve essere un'evidenza da trattenere questa per essere delle persone che non si rapportano con la realtà in modo lamentoso, aggressivo, politico, polemico, eccetera, ma lasciando da perdere tutte queste cose fanno fronte ai bisogni concreti nella misura in cui la loro responsabilità li chiama. Alcuni parlano invece di ripresa, di reinizio, per sottolineare il fatto che non si tratta di ricominciare Tukur da come era prima, si tratta di reiniziare ed è questa la vera provocazione e la vera sfida della pandemia, a mio parere, cioè si tratta di riandare più a fondo di dove eravamo arrivati e trovare il punto generativo per affrontare le problematiche in modo nuovo. Ovviamente sono tantissimi gli aspetti importanti, quello che a mio parere è importante è cercare dei riferimenti che siano in grado di dare delle indicazioni, delle visioni, evidentemente alla sostenibilità integrale, non appena alla sostenibilità ambientale. Ci sono delle persone che danno degli indirizzi che possono servire per andare oltre quello che c'era prima, per reiniziare. Io penso che si tratti di trovare una nuova sintesi che non sia il nazionalismo dei due secoli che ci abbiamo alle spalle, non sia la globalizzazione così come l'abbiamo vissuta in questo scorcio di nuovo secolo, bisogna superare questo modo di leggere le connessioni tra popoli, persone, aspetti economici, aspetti ambientali eccetera e riscoprire, ridefinire con pazienza quali sono questi legami. Il reinizio è possibile se tanti cominciano dal poco di cui possono essere responsabili a mettere in mano le cose, cioè se facciamo nostro l'esempio, la lezione che ci hanno dato dai medici agli addetti alle pulizie che hanno assistito le persone che si sono ammalate e che ci hanno lasciato. Cominciare dal basso vuol dire non solo, a mio parere, quello che può fare ognuno di noi personalmente, per noi è una provocazione molto grande quella che ci abbiamo di fronte perché la nostra azienda ha due settori, un settore, un'area è l'ingegneria di sistema, cioè che studia i gravi.